Fadoi, che cos'è? È la federazione delle associazioni dirigenti e ospedalieri internisti. Ne è presidente il professor, è qui con noi, Dario Manfellotto, che oltretutto tra le benemerenze ha anche quella di essere amico di Elisir da sempre. Ho detto bene. E allora chi meglio di lei può rispondere a questa domanda che serpeggia nella robusta protesta di molti che dicono che sì, certo, siete stati bravi a fronteggiare e studiare il morbo, il virus, però l'assistenza tradizionale, quotidiana, non sempre necessariamente drammatica, ha avuto qualche lacuna. Lei mi può confermare questa... Questo è vero in parte, legato ovviamente alla grossa emergenza che si è verificata. I servizi sanitari hanno avuto difficoltà ad accogliere tutti i pazienti, molti pazienti avevano paura ad andare, c'era una necessità dell'isolamento. Sì, ma avete anche scoraggiato in certi... In certi reparti, in certi ospedali è stato anche disincentivato, però i servizi urgenti, quelli assolutamente necessari, sono stati garantiti. Le dico che le medicine interne italiane, che sono circa mille, hanno lavorato tutte al 100% e hanno gestito peraltro i reparti Covid nel 70% dei pazienti, quindi un grosso carico assistenziale. Se lo dice il Presidente del Fadoi c'è da crederci, ma poi lo dice Dario Manfellotto che soprattutto è il direttore di medicina interna, l'ospedale Fatebene Fratelli, Isola Tiberina di Roma. Quindi ha, come si dice, la situazione sotto gli occhi chiarissima. Prima di parlare di... dopo aver parlato di questo, parliamo degli esami più utili. Possiamo tranquillizzare il nostro pubblico in ordine alla sicurezza degli ambienti ospedalieri? Lei ha giustamente ricordato che non erano soltanto gli ospedali qualche volta reticenti, giustamente, a essere occasione di contagio. L'altissimo prezzo che ha pagato la classe medica, davanti alla quale gli italiani dovrebbero inchinarsi, ce lo dimostra. Ma a questo punto voi incoraggiate, o comunque aprite le porte a chi debba avere un controllo del diagnostico periodico regolare? Ma assolutamente sì. Ovviamente adesso la situazione è molto diversa, oltre a quello che ha spiegato poco fa molto bene l'amico Landi. La situazione degli ospedali è di essere strutture che si aprono ai cittadini, garantendo percorsi sicuri, garantendo il controllo degli esami, la sierologia o addirittura il tampone ai pazienti che si devono ricoverare. Sia i pazienti che arrivano, come si dice, in elezione, cioè chiamati da casa, sia in urgenza. Si fa un controllo del tampone a tutti, all'ingresso e all'uscita dall'ospedale. Ci sono percorsi differenziati nei pronti soccorsi e negli ospedali, quindi abbiamo messo in cantiere e stiamo cercando di garantire il massimo delle tutele. Professore, i controlli da fare, diciamo di routine, ma il termine sembra a parer mio incompleto, insufficiente. I controlli che una persona che vuole campare a lungo in buona salute deve fare non sono poi tantissimi. Vogliamo ricordarli? Sì, noi pensiamo sempre ai controlli sia clinici sia ai controlli, gli esami di laboratorio. È chiaro che quelli che sono alla portata del singolo paziente vanno sempre controllati. Pensiamo al controllo della pressione arteriosa, di cui avete parlato ieri con l'amico Borghi. Ed è un parametro da misurare, da controllare continuamente. Aggiungerei anche il peso. Quello che si è verificato in molte persone adesso durante il lockdown è un aumento del peso corporeo in tantissime persone, sia per l'inattività fisica, sia perché si mangiava con maggiore regolarità. C'è stato un aumento di peso che ovviamente impatta male sulla salute delle persone. E poi ci sono i dati di laboratorio, quelli tradizionali che devono essere controllati, che noi chiamiamo abitualmente di routine, che sono il controllo della glicemia, il controllo del colesterolo, il controllo dei trigliceridi. Quindi sono parametri che indicano lo stato clinico metabolico delle persone. Allora, ci sono degli esami che abbiamo imparato a fare da soli. Ci sono degli esami che possono essere sostenuti nella metodica e anche nella valutazione dei risultati dal medico di medicina generale. Ma ci sono esami che si possono fare solamente in clinica o in un ambiente ospedaliero? Quali sono? Funzionalità renale? Sì, ovviamente questi sono esami che vengono previsti con prelievo negli ambulatori o negli ospedali. La glicemia tradizionalmente... Segui terreni sono fondamentali. Certo, tradizionalmente la glicemia viene misurata anche a domicilio dai pazienti che devono controllare questo parametro perché sono diabetici. A che serve l'emocromo? L'emocromo è il controllo dei globuli del sangue e quindi la verifica se c'è uno stato di anemia o una malattia del sangue. Quindi i globuli rossi vengono misurati, i globuli bianchi vengono misurati, tutte le serie cellulari, le piastrine vengono misurate. Il parametro importante è la concentrazione di emoglobina, cioè il pigmento nobile del sangue, che è quello che ci dice se c'è o meno uno stato di anemia. Francesca, per favore. In rete si parla molto della differenza tra esame delle urine e urinocoltura. Professor Marfellotto, quando quest'ultima si rende necessaria? L'esame delle urine è un esame di routine, un esame di indirizzo e di controllo per verificare sia se c'è una condizione di alterazione della funzione renale, per esempio se c'è un'incapacità del rene a produrre delle urine con una caratteristica adeguata o se c'è per esempio la perdita di proteine o di sangue che indicano ovviamente una malattia del rene. Se ci sono poi dei globuli bianchi, cioè che indicano infezione, allora ci sono anche sintomi, il bruciore urinario, la voglia di urinare più frequentemente, è necessaria l'urinocoltura per verificare se c'è una condizione di infezione urinaria. Professore, capita soprattutto nella mezza stagione, posto che esista ancora, i falotti l'hanno proibita, di sentirsi stanchi e spossati, posto che non abbiamo ragioni patologiche pregresse che la sua anamnesi, che l'anamnesi del paziente eviterà di citare, e col cambio di stagione vanno prescritti degli esami, diciamo non proprio di routine, però di controllo di una fisiologia normale, può essere utile per esempio misurare i valori di ferro nel sangue? Ma questo è molto acuta come segnalazione perché il ferro è un carburante, diciamo per semplificare le cose, è un carburante delle cellule, quindi è un elemento molto importante. Noi possiamo misurare due elementi, la sideremia che è la quantità di ferro circolante nel sangue e la ferritina che è il ferro dei depositi. La vera mancanza di ferro è indicata dal basso livello di ferritina, lì si impone la correzione con la somministrazione di ferro. Allora diciamo in maniera più sillabata, la ferritina, quella che leggiamo nell'esame del sangue, bassa, può indicare una carenza di ferro. Indica sicuramente una mancanza di ferro nei depositi, quindi un vero stato di sideropenia. Troppa ferritina invece può denunciare uno stato infiammatorio. La proteina è una proteina anche dell'infiammazione, quindi un aumento della ferritina può indicare anche uno stato infiammatorio. Sto preparando l'esame in questa direzione. Intanto sentiamo che cosa dice il pubblico, prego. Grazie Michele, Gianluca una domanda per il professore. Dalle analisi del sangue risultano alte VES e PCR, che cosa vuol dire? Ho letto che potrebbe essere un campanello d'allarme anche per il coronavirus, è vero? VES e PCR sono due esami tradizionali delle nostre richieste, indicano genericamente uno stato di infiammazione o di infezione. Più per l'infezione la PCR, che in genere ha dei livelli che sono correlati alla presenza di un'infezione batterica. La correlazione con il covid è abbastanza variabile. Qualcuno ha scritto che per esempio un valore basso di PCR non è associato al covid, perché se c'è un aumento della PCR vuol dire che oltre al covid, caso mai, c'è un'infezione batterica o solo un'infezione batterica. È un'articolazione un po' complessa, però il medico di fronte a questi due parametri sa sempre come muoversi, facendo attenzione ai sintomi e alle condizioni del paziente. Professor Manferlotto, la vaccinazione. Parlo della vaccinazione che abbiamo già a disposizione, cioè quella che tradizionalmente replica i successi delle precedenti vaccinazioni anti-influenzali, la cosiddetta trivalente o tetravalente e aggiungo la vaccinazione che si fa una volta ogni tanto contro la polmonite pneumococcica, pneumobatterica. Vanno raccomandate? Qual è la posizione del Fadoi e la sua personale? Ma in questo non ci sono né posizioni della società scientifica né i miei personali. Sono le raccomandazioni internazionali. La vaccinazione anti-influenzale va assolutamente fatta. Aiuta anche a individuare bene... Secondo alcuni studi avrebbe anche un valore aggiunto di aiutare a prevenire l'infezione da Covid. Quindi questa è qualcosa che da qualche parte è stata proposta e sottolineata. Io sottolineerei, come direbbero gli antichi, Albo Lapillo, con matita bianca, questa informazione. Alcuni studi pensano, propongono l'ipotesi che la vaccinazione anti-influenzale possa, tutto è ancora da dimostrare. Comunque la prevenzione dell'influenza è un elemento importante per non creare un paziente fragile che poi possa andare incontro ad altri problemi. Grazie professor Maffellotto, come al solito grazie.